Maestro Asceso Saint Germain 7 giugno 2011 Per coloro che ascendono, grazie alla loro capacità di osservare, e non rimanere intrappolati nei dettagli. Nessun dettaglio, che do, è per coloro che ascendono, solo per coloro che avranno bisogno di questi state per ascendere? No, se i dettagli sono più importanti della felicità e dell'assistenza in questo momento, i dettagli non sono necessari, per dare all'ego un atteggiamento. Tutto quello che gli ego hanno bisogno, sono un concetto minuto da aggiungere, alla sua attuale rilevazione di dati, da indurre le persone di essere i dettagli. Chiedi a me dettagli e prendeteli, ma non su questione di densità o creando nuove scelte da effettuare. Nessun nuove scelte sono necessarie. La scelta è finita. Tutti coloro che hanno scelto l'ascensione, possono ascendere quando arriva la chiamata. Non è più possibile candidare all'ascensione altri, che non hanno fatto tale scelta, ma chi l'ha fatto, entra sul cammino più emozionante che la luce, abbia mai progettato o attivato. Canalizzazioni materiali, sono buone per ottenere assistenza, per effettuare una nuova scelta, ma dopo che i dettagli sono consegnati, possono essere eliminati sul tabellone dati, così che non ne ricercate continuamente altri. Una volta, che arriva il momento, è possibile sperimentare direttamente l'apprendimento per se stessi, e non l'attaccamento ai dettagli come convoglio d'apertura, questo non è buono abbastanza. Essere aperti significa, non essere aperti ad ogni dettaglio, non solo quelli precedentemente discussi. Solo l'informazione chiude la porta alla necessità della consapevolezza. Le mie parole non sono da considerare come la verità ultima, io voglio che voi andiate direttamente dentro di voi, per la verità all'interno della griglia di luce, vicino al vostro cuore fisico. Non ci sono le parole, vi è solo Dio, ed è l'essenza divina, che è sempre stata lì, non esiste creazione, che non contiene questa griglia, e il nome e la forma, che ottiene gli unici dettagli per la gestione di questo grande bene, di padronanza. Esso è piuttosto semplice in realtà, nessun convoglio di messaggi, è in grado di fornire altri dettagli, di consapevolezza necessaria, basta rivolgersi a questa griglia dentro voi, e chiedere di essere guidati verso la verità, nessuna risposta è migliore. La canalizzazione è naturale, quando la griglia è consultata, nulla di ciò che valore, può dare tanto, quanto questa cosa, che non costa nulla. Per poter avere la vostra abbondanza, tutto quello che serve è un cuore aperto, e il desiderio di essere un conduttore trasparente per la luce. Nessun contenuto nella memoria cellulare del corpo, può cancellare questa griglia, ma si può coprire e controllare la vostra capacità di accedere alla luce, da esso. Pulite la memoria cellulare con la respirazione profonda, respirate a pieni polmoni, aria nuova con il messaggio, il mio respiro purifica, tutte le vite di ricordi, che mi distraggono ora. Pulirsi e liberarsi con questa domanda mentale, diventano più luminosi i dettagli, che richiedete al corpo mentale. Nessun particolare è necessario, rimani nel momento, e tutto ciò di cui necessiti è la consapevolezza, vi apparirà. Allineate i vostri ricordi più difficili, con la volontà di Dio come strumento di crescita, e sbarazzatevi della rabbia, per tutti quei dettagli, che sono caricati negativamente. La felicità e la consapevolezza, sono la stessa cosa. Consapevolezza, senza emozioni negative allegate, completa la felicità. Nessun cambiamento è necessario, come un chiaro, essere staccato dal banco di memoria individuale, è il modo di Dio di essere. Siete in grado di staccarvi dai dettagli? Si può accettare che tutti i dettagli, non saranno disponibili, che la vita è destinata ad essere un convoglio di circostanze, che non sono ancora noti. Le scelte compiute in circostanze nuove, testano la consapevolezza. Nessun dramma deve esserci dall'essere in controllo. Quando la necessità per i dettagli scompaiono, un maestro rimane, in attesa di istruzioni, dal respiro della vita, e con la griglia divina, che le attiverà. Io sono, ciò che sono. Maestro Asceso Saint Germain canalizzato da Runa Grazie. Grazie. Grazie.